Chiusa la prima giornata del G7 in Puglia, raggiunto accordo storico per l'Ucraina, finanziamento da 50 miliardi di dollari entro fine anno. I gruppi sovranisti sono in ascesa in Europa, secondo il partito di Le Pen, Identità e Democrazia vaglia la possibilità di un supergruppo di estrema destra. La premier italiana Giorgia Meloni chiude la prima giornata del G7 in Puglia. Sono state quattro oggi le sessioni di lavoro, la prima dedicata all'Africa, la seconda alla crisi in Medio Oriente, le due successive all'Ucraina. La prima di queste è stata allargata anche al presidente del paese, Volodymyr Zelensky. Meloni ha fatto sapere che al summit è stato raggiunto l'accordo politico per fornire un sostegno finanziario aggiuntivo all'Ucraina di circa 50 miliardi di dollari entro fine anno, grazie a un meccanismo di prestiti che verranno restituiti grazie agli extra profitti derivanti dai beni russi congelati nei paesi del G7. Il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Biden hanno firmato poi un accordo storico sulla sicurezza che mira a rafforzare significativamente la capacità di difesa dell'Ucraina contro future aggressioni. L'accordo afferma inoltre la possibilità dell'adesione dell'Ucraina alla Nato. Il partito francese Rassemblement Nazionale ha ottenuto 30 seggi nel prossimo Parlamento europeo, il numero più alto rispetto a qualsiasi altro partito europeo. Ciò nonostante il gruppo Identità e Democrazia nel quale confluisce il partito francese, si colloca al quinto posto nel panorama del Parlamento di Strasburgo. Jean-Paul Garraud nel podcast di Euronews Radio Schumann ha spiegato perché, secondo lui, i partiti sovranisti sono in ascesa. Noi nostri annunciati sono un gruppo importante che simbolizza un montaggio di sovranismo a tutti, a degri diversi, ma a tutti in Europa. C'è la città che i nostri concitoyensi, particolarmente in Francia, hanno ben capito i problemi di questa elezione europea, a savoir, d'abord, che i suoi 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 che si trattano qui li touchano all'unità quotidiana, in dei domani differenti, l'immigrazione, l'energia. Intanto alcuni leader di identità e democrazia vorrebbero formare un supergruppo con Giorgio Meloni e i conservatori e i riformisti europei. Marine Le Pen ha contattato la Premier italiana per capire se c'è la possibilità di un'alleanza. La reintegrazione del partito tedesco Alternative für Deutschland al momento non sembra essere un'opzione. Con queste premesse identità e democrazia non esclude ora di presentare il candidato alla presidenza della Commissione. Un 35enne francese è tornato a casa dopo una detenzione di 20 mesi in Iran. Giovedì mattina Louis Arnault è stato accolto all'aeroporto di Parigi dalla sua famiglia e dal ministro degli esteri francese. Arnault era impegnato in un giro del mondo quando è stato arrestato a Teheran il 28 settembre 2022 insieme ad altri turisti europei, tra cui Alessia Piperno. L'accusa a carico del gruppo era di aver preso parte alle proteste di Massa in corso quell'autunno per la morte di Massa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale. Si è conclusa a Berlino la conferenza di due giorni sulla ripresa dell'Ucraina durante la quale l'Unione Europea ha promesso di aiutare a ricostruire il paese dilaniato dalla guerra. Molti concordano sul fatto che la conferenza sia un passo nella giusta direzione. Ma come saranno esattamente la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina? Ne abbiamo parlato con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite e la Banca Mondiale. Questo è uno dei migliori movimenti di persone come risultato del conflitto che abbiamo visto da 1945. La risposta di humana non è crescita in quanto riguarda il numero di persone, ma ogni giorno che la guerra continua, il loro affrontamento, il loro trauma diventa più profondità. A generazione di scuola di scuola che ora hanno bisogno di andare in la stazione di Kharkiv in order di poterlazionare a scuola. La scuola di scuola per la vita di quello che si vedono all'interno di loro. Secondo, la scuola di l'Ucraina come una nazione, come un'economia, ha già stato fatto per anni fa per anni. Probabilmente, la scuola di scuola di decadere, cercando di regare il momento e poterciare a persone in l'Ucraina e a quelli che hanno fuori, avere una sensazione di speranza. Abbiamo già visto benefici di un'integrazione dell'Ucraina in Europa, per l'energia sector. Already durante la guerra, hanno fatto qualcosa di meraviglioso, che era inter-connettere le network, per l'exporti e imprese potrebbero continuare a流are. E questo ha davvero aiutato l'Ucraina, perché è necessario imparare, soprattutto ora con le incredibili, detrimenti che hanno avuto l'energia sector. Questa settimana l'Ucraina di RECOVERY CONFERENCE è stato heraldato come un successo, con più di 100 accordi che sono statati. I ministri della difesa della NATO hanno terminato l'incontro a Bruxelles, durante il quale hanno concordato un piano per fornire assistenza a lungo termine e addestramento militare all'Ucraina. L'incontro presso il quartier generale della NATO è durato due giorni. Sono gli ultimi colloqui di alto livello prima di un vertice ospitato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington nel mese di luglio. Since Russia's full-scale invasion, allies have provided around 40 billion euros worth of military support each year. I have proposed that we sustain this level of support as a minimum for as long as it takes. I have proposed that we sustain this level of support as a minimum for as long as it takes and that allies share this burden equitably. NATO's central focus for Ukraine is long-term predictable security assistance amidst growing global insecurity. Secretary General Jens Stoltenberg said there has to be an end to gaps and delays in the transfer of weapons, given what has been an extremely harsh six months for the country, with Russia taking even more territory. Defense ministers are also discussing training for Ukrainian soldiers and financial assistance, all of which is a prelude to the big leader summit in July in Washington, D.C. Shona Murray, Euronews, NATO. Maxi rissa tre deputati italiani durante una seduta sull'autonomia differenziata. Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle è stato accerchiato da un gruppo di parlamentari dopo aver provato a consegnare il tricolore al ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli. Il leghista Igor Yezzi ha sfiorato con un pugno il pentastellato, che è stato trasportato fuori dall'aula su una sedia a rotelle. Lavori sospesi sia alla Camera che al Senato, dove alcuni membri dell'opposizione hanno messo in atto una protesta in supporto di Donno. Secondo i media bulgari, l'ex premier Boiko Borisov ha invitato i leader degli altri partiti a colloquio lunedì 17 giugno per la formazione di un governo. L'ex premier non sarà alla guida dell'esecutivo, ha detto, ma dovrà esserlo qualcuno di Gerb, il partito che ha vinto alle elezioni politiche ed europee di domenica scorsa. Il centro-destra però non ha la maggioranza e si rischia un nuovo voto. Quella del 9 giugno è stata la sesta votazione per l'Assemblea nazionale bulgare in tre anni e ha visto una fluenza alle urne intorno al 30%. GERB alle politiche ha preso il 24,7% dei voti, superando il Movimento per i diritti e la democrazia al 15.8%. A contare potrebbe essere anche la coalizione Continuiamo a Cambiare Bulgaria Democratica e il partito filorusso Rinascita, che hanno raccolto circa il 14% delle preferenze. Le temperature rimangono molto alte in tutta la Grecia. In molti luoghi hanno superato i 40 gradi. Le scuole sono rimaste chiuse e tutti i siti archeologici di Atene, compresa l'Acropoli, sono stati chiusi tra mezzogiorno e le 17. L'esercito e i vigili del fuoco sono in stato di massima allerta per la possibilità di incendi. Grandinate e piogge torrenziali hanno invece colpito parte della Bulgaria, lasciando alcune regioni senza elettricità. La grandine aveva le dimensioni di una noce e ha distrutto svariate auto. Ha anche distrutto il raccolto di pesche in diversi villaggi vicino alla città di Sliven. A Mursia, in Spagna, una tempesta ha lasciato le strade sommerse dall'acqua e ha interrotto l'illuminazione pubblica nelle scuole, negli impianti sportivi e negli edifici comunali. La polizia locale ha ricevuto 126 segnalazioni di incidenti legati alla pioggia, mentre i vigili del fuoco hanno risposto a 190 chiamate. Il giornalista statunitense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, sarà processato con l'accusa di spionaggio. Gershkovich è in carcere in Russia dal marzo 2023 dopo essere stato arrestato durante un viaggio per realizzare un reportage a Ekaterinburg. All'epoca il Servizio di Sicurezza federale russo sostenne che Evan avesse agito su ordine degli Stati Uniti per raccogliere segreti di Stato, ma non fornì alcuna prova. L'ufficio del procuratore generale rivela ora che è accusato di aver raccolto informazioni segrete per la CIA. Su Ralva Gonzaward, un impianto russo che produce e ripara attrezzature militari, si è sempre proclamato innocente e il governo statunitense ha negato le accuse. Gershkovich rischia fino a 20 anni di carcere se condannato. Gershkovich rischia fino a 20 anni di carcere.